Le complicanze delle sinusiti quali sono? Sono la sindrome rinobronchiale, complicanze osse, complicanze endocraniche e complicanze orbitarie. La sindrome rinobronchiale non è nient'altro che uno scolo, quindi un passaggio del materiale, dal naso alle vie respiratorie e che va a causare una sofferenza a livello delle piedele bronchiale. Questo perché ci saranno le sinofili e sostanze citotossiche che poi a loro volta vanno a favorire anche l'azione da parte dei virus, quindi la penetrazione dei virus nelle vie respiratorie. Per quanto riguarda quelle osse abbiamo l'osteomelite che può essere frontale o macellare superiore e poi l'etmodite acuta infantile. L'osteomelite frontale è una tromboflebide, cioè meglio caratterizzata da una tromboflebide delle vene diploiche che vanno a drenare la parte ossea dei seni frontali ovviamente e in particolare troveremo un'elevata temperatura, quindi la febbre risulterà essere un sintomo sempre presente, insieme all'edema e alla cefalea. Inoltre a livello sottoperiostale si va ad accumulare del materiale del pus che mano a mano poi porta anche in evoluzione in negativo in meningite, quindi deve essere trattato con antibiotici, preferenzialmente per via endovenosa ad alte dosi. Per quanto riguarda invece l'osteomelite del macellare superiore, invece compare nel periodo soprattutto della prima dentazione ed è un'infiammazione propria dell'osso, quindi del macellare e secondariamente può colpire invece la mucosa. È caratterizzata febbre e dolore e si tratta anche questa con gli antibiotici. Importante poi anche l'etmoidite acuta infantile, molto comune appunto nei bambini ed è un'infiammazione che parte dalla lamina papiracea e poi si formano delle raccolte acessuali sotto la palpebra e in particolare uno dei segni principali sarà la chemosi congiuntivale. Infatti si vede proprio l'occhio riconfio un po' con un aspetto gelatinoso quasi giallastro a livello congiuntivale. Quindi ci sarà febbre, il trattamento si fa con gli antibiotici o con il drenaggio. Le complicanze tipo endocraniche invece sono meningite, ascesse e tromboflebidi. Di solito ci sarà una temperatura molto elevata, brividi e chemosi congiuntivale ed esoftalmo. Va trattata tempestivamente con antibiotici in due o tre giorni, altrimenti è fatale. complicanze orbitarie, c'è il flemmone sovraorbitario che è un fenomeno suppurativo in questo caso che interessa sempre la lamina papiracea e che in particolare poi questo fenomeno si estende alla rima parpebrale, quindi causando un etema parpebrale, poi al nervo ottico causando un'infiammazione che si chiama neurite ottica retrobulbare. Grazie.